Buonasera e benvenuti a Mondo Italia, l'appuntamento con la rassegna stampa dedicata ai giornali italiani all'estero. Apriamo purtroppo questa puntata con una brutta notizia perché il Corriere Canadese, l'unico quotidiano in lingua italiana in Canada fondato nel 54, sospende le pubblicazioni. Andiamo a leggere sul sito del Corriere Canadese la situazione. C'è l'editoriale della direttrice, del direttore responsabile Paola Bernardini dal titolo Il rischio, un delitto editoriale. In cui appunto il direttore spiega la situazione perché la Italmedia, società che ci edita, scrive Bernardini, ha avviato le procedure di liquidazione e la multimedia Nova Corporation, l'azienda proprietaria della testata, ha deciso per una pausa tecnica forzata dalla grave crisi finanziaria. Questa drastica sospensione, scrive ancora Bernardini, colpisce una redazione già approvata da una pesante ristrutturazione che da quattro anni lotta con i contributi tagliati, i mille proroghe, gli effetti della crisi economica globale, il magro fatturato pubblicitario. Il Corriere avrà un futuro? Chiede infine Bernardini. La chiusura definitiva sarebbe un delitto editoriale perché un quotidiano che ha quasi 60 anni di storia, il secondo più antico a Toronto dopo lo Star, non avrebbe dovuto subire tutto questo. Doveva e deve essere considerato un bene prezioso di cui si avrà la percezione solo quando verrà a mancare, scrive Bernardini. Vediamo sempre sul sito del Corriere canadese anche il commento di Franco Sidi, segretario dell'FNSI, che parla di brutta notizia, una notizia desolante di grande tristezza. L'interruzione di una voce storica degli italiani all'estero, affermata in Canada e ben nota agli ambienti della comunità italiana in patria, è una ferita per tutto il sistema dell'informazione italiano e per la stessa capacità della nazione di rapportarsi a tutti i suoi cittadini ovunque essi siano nel mondo, con una leale e competente informazione italiana. La scelta dell'editore, continua Sidi, trova sicuramente delle ragioni in una politica spesso distratta, reticente e talvolta infastidita verso una comunità, quella italiana nel mondo, e le sue voci più affermate, che sono invece una ricchezza e un interesse nazionale rilevante. Questo scrive Franco Sidi e ora voltiamo decisamente pagina, spostiamoci negli Stati Uniti, dove troviamo gli scatti più belli dell'Ansa, in due mostre parallele a Washington e New York. A dare spazio alla notizia, America Oggi, il giornale diretto da Andrea Mantineo, che titola L'Italia, raccontata dalle immagini dell'Ansa, mostre a Washington e New York. Un viaggio fotografico per raccontare le bellezze italiane, da quelle più note a quelle meno conosciute, un viaggio attraverso l'artigianato locale, i presidi slow food, le bellezze dell'arte e le eccellenze nel campo scientifico e della ricerca. È Tour Around Italy, una mostra che Lanza, attraverso la sua produzione fotografica realizzata su tutto il territorio nazionale, dedica al nostro paese, una vetrina che parte da regioni, province e comuni per raggiungere il pubblico statunitense, in particolar modo le comunità italiane e le associazioni italo-americane che operano sul territorio. E ancora cultura, ma questa volta dalla Sud America, dove dal Venezuela la Voce d'Italia racconta il successo riscosso nel paese dal gruppo rock Los Alte Regos, un gruppo locale ma che ha anche all'interno sangue italiano. Tra loro infatti anche due figli di italiani, vediamolo dal sito, dalla pagina della Voce d'Italia, dall'articolo dal titolo La Musica, linguaggio universale, due figli di italiani, appunto Gianluigi Borrelli, che è cantante, compositore e chitarra acustica, e Gabriele Cannita, prima chitarra. La giornalista Giuditta Tazzi, che ha scritto l'articolo, scrive Ieri erano i figli dei pionieri, oggi sono i loro nipoti ad eccellere e portare in alto in questo paese un nome con radici italiane. Ancora sulla stessa pagina, però il taglio basso, troviamo una notizia di emigrazione, la storia al femminile della nostra emigrazione, che racconta di un libro dedicato proprio al fenomeno migratorio, in particolare a quello femminile. Si chiama I motivi della memoria, le piemontesi in Argentina, che farà parte di un libro scritto da Maddalena Tirabassi, che è stato presentato nei giorni scorsi a San Juan, che farà parte di una collana di libri destinata a raccogliere e pubblicare momenti e storie vissute dalle donne emigrate italiane, una collezione al femminile aperta, destinata a dare voce a tante donne che conservano nel cuore ricchissime esperienze ancora da raccontare. E parla di migranti, anche il mensile per gli italiani all'estero bellunesi nel mondo, con una novità, l'apertura a breve del Museo Interattivo delle Migrazioni, che verrà inaugurato a Belluno il 18 maggio, nella sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Ovviamente il mensile è dedicato quasi interamente al museo, andiamo a leggere in particolare delle riflessioni del direttore creativo del museo, che si chiama Romeo Pignat, dal titolo Questo museo è un viaggio dentro la terra di tutti e di nessuno. Queste le sue dichiarazioni, riscoprire questa terra, lo spazio dinamico delle migrazioni, è il primo messaggio che abbiamo voluto portare dentro il MIM di Belluno, scavare sotto la superficie delle cifre per restituire il sentimento di un'esperienza complessa e mai a senso unico, di un'epopea di individui e umanità, di solitudini e solidarietà, di sacrifici e riscatti, di polvere e gloria, di nostalgia ed emancipazione, di gente che nella buona e nella cattiva sorte ha saputo e sa ancora scegliere e reagire, queste le parole del direttore artistico del museo che sta per nascere e l'associazione ha realizzato anche un trailer per presentare questo museo delle migrazioni e vediamolo. Guardate all'estero, non abbiate paura, la creatività vi porterà molto lontano. La prima cosa che io sono qua che mi sento molto bene è che sono in pace. La mia esperienza è stata naturalmente positiva, se non ci rimaneva 40 anni. E restiamo in Europa per parlare di arte, infatti il periodico Focus In realizzato in Francia dedica spazio alle opere dell'artista italiana Paola Pezzi. Le sue coloratissime creazioni, una la vediamo proprio in pagina, sono in mostra in questi giorni a Marsiglia. L'artista presenterà nella città francese un'originale personalissima interpretazione dell'arte povera, dell'utilizzo in una costante metamorfosi di materiali che fanno parte del nostro quotidiano, si legge su Focus In. Espressamente per Marsiglia Paola Pezzi ha creato un'opera che vuole sottolineare il forte legame esistente tra l'Italia e questa grande città del Mediterraneo. Una fusione tra i due mondi dove il mitico stivale sarà costruito e definito da una miriade di saponette di Marsiglia. Questa è la mostra in corso appunto in Francia e ancora grandi artiste e grandi donne. L'indimenticabile Anna Magnani infatti viene ricordata sul sito dell'altra Italia. Vissi d'arte, vissi d'amore, omaggio dell'Istituto Italiano di Cultura di Colonia ad Anna Magnani. Vediamo che è un duplice omaggio che l'Istituto di Cultura renderà il 17 maggio alla grande e indimenticata attrice romana in occasione del quarantesimo anniversario della sua morte. Passiamo alle imprese italiane all'estero, dal sito della Gazzetta del Sudafrica. Per parlare delle cinque terre, il territorio spezzino promossi a Johannesburg dalla Camera di Commercio Italo-Sudafricana. Vediamo appunto che ad atterrare in Sudafrica è stata questa volta una delegazione di aziende iscritte alla Camera di Commercio di La Spezia per la promozione del territorio spezzino in Sudafrica per far conoscere i bellissimi scenari dei territori spezzini e delle cinque terre. Queste azioni promozionali del territorio di La Spezia e delle cinque terre fanno parte di una serie di attività programmate a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2011 e puntano ad avere in futuro un numero crescente di turisti sudafricani. Dal lavoro passiamo invece ai banchi di scuola. Manca ormai un mese alla chiusura per le vacanze estive, ma c'è chi già pensa al nuovo anno. Apre infatti a settembre in Baviera la scuola bilingue italo-tedesca Leonardo da Vinci. Sul Corriere d'Italia, edito a Francoforte, troviamo un'intervista a Patrizia Mazzadi, ideatrice e fondatrice della scuola. Esistono altre scuole bilingui in altri land, dice la nuova responsabile della scuola. In questa intervista a Francoforte, a Colonia, a Friburgo, a Stoccarda. In Baviera una scuola di questo genere non c'è mai stata. C'è stata una scuola italiana ma non bilingue. So però che sono stati fatti due tentativi di realizzare scuole bilingue che non hanno avuto successo perché si trattava di iniziative che partivano dai genitori e che non disponevano della necessaria esperienza professionale. Nella fase di studi abbiamo analizzato tutti i precedenti, compresi quelli degli altri land. Abbiamo studiato in particolare il modello di Colonia perché è una scuola che è nata da un'organizzazione simile alla nostra e che funziona da 40 anni e funziona anche bene. Ma vediamo nello specifico quante sono e dove si trovano le scuole italiane nel mondo in alcune tabelle realizzate da nove colonne. Vediamo la prima tabella che ci mostra gli istituti che sono 294, 183 scuole italiane e 111 sezioni italiane presso scuole straniere bilingue o a carattere internazionale. Di queste scuole la maggior parte si concentra come vedete in Europa e seguono le Americhe, il Mediterraneo e Medio Oriente, l'Africa subsahariana e poi l'Asia e l'Oceania. Nella seconda tabella vediamo che complessivamente operano nelle scuole italiane e nelle sezioni italiane presso le scuole straniere 430 unità di personale di ruolo. Presso le rappresentanze italiane e all'estero sono stati assegnati 74 dirigenti scolastici competenti per tutte le istituzioni e iniziative scolastiche dell'area. Complessivamente sono utilizzate quindi 504 unità a carico del bilancio del Ministero degli Esteri. Altri 105 insegnanti italiani di ruolo operano nelle scuole europee il cui onere è a carico delle scuole medesime. E infine la terza tabella che ci mostra quanti sono gli alunni, gli studenti che frequentano queste scuole sono circa 31 mila e appunto una presenza molto alta di studenti stranieri quindi di origine italiana e non, che rispetto all'utenza totale è pari a circa l'80%. Dati importanti quindi che riguardano la scuola e con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana sempre con Mondo Italia. Arrivederci! Grazie! Grazie! Grazie!